Allora, Silmo 2021, quali parole racchiudono l'esperienza di Silmo? Creatività, perché appunto in questi spazi poi c'è tanta creatività, ci sono persone, personaggi, designer, ma ottici, persone sicuramente creative e particolari. Connessione intesa come legame a quel lato più giocoso che ogni persona, ogni professionista ha, quindi connessione a quella parte di noi più nascosta che non riusciamo a vivere ogni giorno nei negozi, ma che in una fiera, in un evento così bello come Silmo abbiamo possibilità di riscoprire. Il Silmo è rivoluzione. Perché il Silmo è rivoluzione? Perché è un modo dell'ottico di essere un po' un rivoluzionario. Noi non siamo più semplici ottici, ma siamo ricercatori di design e di qualità. Le farfalle nella pancia. Le farfalle nella pancia sono il momento in cui io parto, per il Silmo. Comincio ad avere delle vibrazioni che non riesco a controllare. E la bellezza è che al mio rientro sono più innamorato del lavoro che ho scelto di male. Scriviti dal diretto! Vediamo! Vaguarda non i giochi è un시는ro che non ha visto l'amb cavale. vantaggio v acostruzione guarda le